Musica Rassegna stampa di martedì 26 maggio 2015 Ben ritrovati a tutti, 7.30 in diretta del mattino per leggere i giornali Occhio ai giornali che come sempre comincia però con il santo del giorno Oggi è San Filippo Neri Il sole è sorto alle 5.32, tramonterà alle 20.38 Il tempo, la fotografia della webcam del nostro osservatorio Ci indica una mattinata tutto sommato con nuvole ma anche ampi squarci di sereno Ma attenzione perché nel pomeriggio arriva il maltempo e arriva la pioggia Intanto la temperatura registrata è di 16,5 gradi Allora vediamo questo maltempo in arrivo per la giornata di oggi Rovescio temporali in espansione dei settori interni verso l'intero territorio A partire dal pomeriggio Localmente i fenomeni potranno risultare di forte intensità Le temperature sono stazionarie Per domani un'altra giornata di cattivo tempo Al mattino avremo cielo nuvoloso o molto nuvoloso per estesi addensamenti comuniformi Al pomeriggio invece sereno o poco nuvoloso con aria terza Le precipitazioni durante la prima parte della giornata di domani Rovescio temporali sparsi anche di forte intensità Le temperature in lieve diminuzione nei valori massimi I venti nord orientali di vento moderato Per giovedì ecco il bel tempo In particolare sulla costa Cielo sereno o poco nuvoloso Con temperature in lieve ripresa La seconda parte della settimana Questa è la tendenza per i giorni successivi La seconda parte della settimana Sarà caratterizzato da condizioni di tempo stabile e soleggiato Allora andiamo a leggere i giornali Oggi abbiamo solo il messaggero e il resto del carlino Perché la versione in pdf del Corriere Adriatico Alle 7 di questa mattina non era disponibile Allora il messaggero Il messaggero alla pagina di Fano Camion di Gaia a Sassonia per la spiaggia che non c'è più Rispetto agli anni scorsi la regione è stata meno generosa anche nei finanziamenti La Confartigenato dice I soldi stanziati bastano appena per via Ruggeri e le brecce Ruspe al lavoro sugli argini del fiume Metauro e dell'Arzilla Per tamponare le emergenze Poi si parla dell'avvertenza al supermercato Ocean appesa ad un filo Questa avvertenza cauta ottimismo da parte dei sindacati 16 posti di lavoro sono a rischio Un affollamento di candidati per la corsa ad un posto in regione Denominatore comune Una campagna all'insegna della sobrietà e del risparmio Questa è la pagina di Fano del messaggero Poi le altre da Pesaro Urbino Basterà un click per vendere in Cina il Made in Pesaro I prodotti pesaresi La Camera di Commercio sigla un accordo triannale Con una delle principali aziende per gli acquisti online I settori interessati sono moda, mobile, pelletteria, preziosi Con una selezione delle imprese da coinvolgere Ancora dal messaggero parte la campagna Sole Assicurato Niente fiere La promozione passerà per l'editoria e per i siti web Su un portale tutti gli alberghi e le strutture aderenti Ovviamente stiamo parlando del Sole Assicurato del sindaco di Pesaro Matteo Ricci Fine settimana gratis da spendere anche l'anno prossimo In caso di troppi giorni di pioggia a luglio e agosto La pubblicità indirizzata soprattutto verso il nord Italia Scelta diversa invece per Baia Flaminia Infatti lì verranno rimborsati se persiste il maltempo Intanto aumentano le navette gratis per la spiaggia Ben 13 giorni in più per gli autobus a partire dal prossimo 6 giugno Tre parcheggi a Sottomonte e Sosta Libera sulla Statale Dal messaggero l'intervista questa mattina a Gianni Maggi Del Movimento 5 Stelle Noi meglio di tutti altro che inesperti Onestà, trasparenza e partecipazione Forniremo più garanzie di un uomo di potere E di uno che ha già fatto il sindaco per 10 anni La prima cosa che farei appena eletto Dice Maggi Verifica dei conti della regione Per introdurre il reddito di cittadinanza Poi sul tema della sanità dice Via i privati e no ai tagli lineari Riempiamo le case della salute e stop ai premi, ai dirigenti Poi Berlusconi da Forfè Questa mattina doveva essere a Dancona Ma non ci sarà L'ex Cavaliere annulla l'appuntamento di questa mattina a Dancona Spacca decide di illustrare i suoi 10 punti per le Marche Ma è in forse anche Renzi Mentre Ceriscioli ironizza sull'assenza di Berlusconi Forse ha preferito risparmiare le forze Ma anche il Premier, dicevo, è subiudice Il 29 è annunciato infatti nella regione Liguria Il PD schiera due ministri Invece Martina in tour tra Valesina e Maceratese Domani Gentiloni parlerà di macro regione Ancora torna Salvini nelle Marche Uova e pomodori a Pesaro Il sindaco Ricci fate il suo gioco Così il leader della Lega A voi serve il servizio civile obbligatorio Rivolgendosi ovviamente ai contestatori Poi attacca Forza Italia E dice e sostiene chi ha governato con la sinistra Tensione in Piazza del Popolo a Pesaro Cordone di Polizia tiene lontano i centri sociali Poi all'Hotel House e all'Abbadia di Fiastra E il proseguimento del tour elettorale Anche se poi all'Hotel House Dove ha cercato di andare già la volta precedente È stato invitato a non recarsi in quell'albergo In quella struttura, scusate Quel condominio enorme Abitato da tanti extracomunitari In realtà poi ci è riuscito Ma una cosa velocissima Mentre Meloni, fratelli d'Italia L'unico avversario di Ceriscioli è Acquaroli Il centrodestra è solo lui Dalla prima pagina del messaggero Boom dei corsi Costa Crociere Assume ancora Al via altri due corsi Al centro per l'impiego Con i primi nove Hanno trovato un posto di lavoro In 160 160 partecipanti che hanno subito trovato Un posto di lavoro in Costa Crociere Poi il meteorologo Sempre sul messaggero Cielo nuvoloso E precipitazioni Come abbiamo visto per oggi e domani Apriamo adesso il resto del Carlino Il resto del Carlino La pagina di Fano Fa un check di tutte quelle che sono le Persone chiamate Aventi diritto al voto E pensate che a Fano ci sono 25 centenari E 528 che votano per la prima volta La macchina comunale è a regime Cosa cambia con L'unificazione di Marotta? Attenzione al certificato Insomma un vademecum Tutto da leggere Quello di questa mattina Sulla pagina del resto del Carlino di Fano Gli aclisti fanesi Ricevuti da Papa Francesco A Roma un centinaio di persone In rappresentanza dei 6.300 iscritti della zona Sempre la campagna elettorale Vede un'altra candidata Presentarsi alla stampa Eoretta Ciancamerla Di Area Popolare Che dice aiutiamo le imprese Per far ripartire economia e lavoro Poi invece da Forza Italia Elisabetta Radi Fano deve avere il suo ospedale Spacca Mi interessa la sua proposta Ancora dalla pagina di Fano Del resto del Carlino La città ha preso la mira Più di 100 concorrenti Al tiro al volo Dove si è disputato Lo storico trofeo Nell'impianto rinnovato Poi più sotto Avis Quando la solidarietà si accende Di mille colori Chiuse le iscrizioni In 750 Alla corsa Colora la vita Un successo Il partecipante più giovane Ha appena tre mesi E correrà ovviamente con i genitori La presidente Giulia Peroni Dice Sono molto felice Per la partecipazione E crescono anche i donatori A Fossombrone Detenuto Prende a calci Un agente di custodia Movimentato episodio Nel carcere Ancora da accertare Il perché di questa aggressione A freddo Non è del tutto chiaro Infatti che cosa sia accaduto Nell'alta sicurezza Sotto Volete la cabina? Dite perché L'ultima infatti Sarà rimossa A meno che A meno che I cittadini Non Decidano di scrivere All'Agicom Motivando la richiesta Di mantenerla E la cabina È quella che vedete In questa fotografia Ancora Dal resto del Carlino Guardate queste belle fotografie Belle fotografie anche Di un tempo Sci Piccozza E storia Sulle creste dell'onda Catria Nerone E Carpegna Vissuti Sulle pelli di foca Una guida Su itinerari E radici Dello scialpinismo È il libro Un volume Un volume Che si intitola Sulle creste dell'onda Vie scialpinistiche Sul crinale pesarese Urbinate e riminese Per la collana I quaderni Dei vagabondi Della montagna Firmato da Giorgio Guidelli Giornalista del Carlino Già autore di altre pubblicazioni Sulle cime marchigiane E chiudiamo con la pagina Dedicata allo sport Serie di playoff Granata Matti Da Lega Pro Diritti verso il traguardo Contro il San Nicolò Domenica scorsa Un successo Ottenuto a fuoco lento Ricordiamo che ha vinto Per 5 a 1 Domenica invece I Granata Affronteranno il prossimo avversario Al Mancini Lo Scandici Di Baiano E con questo Schiediamo qui La nostra Rassegna stampa Occhio e giornali Torna domani mattina Come sempre Alle 7.30 Questa sera Invece c'è il telegiornale Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti